Ave legionari. Quella che vediamo in questo brevissimo video è una diga dell'antica Roma che salva dall'inondazione, dalla sicura distruzione, una piccola città della Spagna. Questo è un video che è diventato virale nelle ultime ore. Tantissimi si sono chiesti come è possibile che una diga dell'antica Roma ancora oggi abbia salvato una città e allora subito ci siamo precipitati a darvi la notizia, a spiegarvi quanto è successo e facciamo anche un piccolo racconto di come è stata costruita questa diga che ha permesso di salvare centinaia di vite. Innanzitutto la notizia è legata alle recenti inondazioni in Spagna che purtroppo stanno colpendo gravemente il paese e ci troviamo, la mappa ci aiuta a capire, in una cittadina molto molto piccola. Si chiama Almonasid della Cuba, ha poco più di 300 abitanti, quindi è veramente una cittadina minuscola ed è nella regione dell'Aragona. Questa cittadina piccolina sarebbe stata totalmente inondata e devastata dalle acque del fiume Aguas Vivas se non fosse stato per questa diga romana che stiamo vedendo, che ha convogliato le acque del fiume Aguas Vivas, le ha deviate impedendo che potessero colpire la città e le ha scaricate sul lato sinistro. Questa è la meraviglia, la grandezza e la forza di una diga dell'antica Roma, che ancora oggi ha perfettamente salvato delle vite con un funzionamento incredibile. Questa diga come funziona nel dettaglio? E qui abbiamo diversi studi che sono stati compiuti nel corso degli anni dagli architetti e dagli ingegneri spagnoli. Innanzitutto, a quando risale la diga? Sui giornali si legge al tempo dell'imperatore Augusto, ma in realtà è un errore. Sono state fatte delle analisi precise sui campioni della diga e in realtà i primissimi pezzi, le parti più antiche della diga, risalgono dal 41 al 68 d.C., quindi al tempo dell'imperatore, prima Claudio e poi Nerone. Quindi le parti più antiche in assoluto della diga sono del periodo di Claudio e di Nerone, non di Augusto. Poi la diga è stata più volte ricostruita. Ad esempio ci sono evidenti tracce di manutenzione del periodo dell'imperatore Traiano, quindi dal 98 al 117 d.C. E poi successivamente altri lavori sono stati fatti per ammodernare la diga, sia per proteggere la città a valle, ma anche per, per esempio, far arrivare l'acqua ad alcuni mulini lì vicino, quindi anche per esigenze di irrigazione. Quindi in realtà la diga ha tanti strati appartenenti ad epoche diverse e quindi è più corretto spiegare che questa diga ha più età che si sommano l'una con l'altra. Questa immagine che invece vediamo è una rappresentazione grafica, una sezione trasversale della diga e vediamo la grandezza dell'ingegneria romana, cioè come questa diga ancora oggi ha salvato delle vite. Innanzitutto ci orientiamo. Di qui c'è la diga, l'acqua, che fa pressione, quindi su questo lato dell'immagine. Dall'altra parte invece c'è la valle con la cittadina di Al-Monasid. Innanzitutto, dalla parte dove c'è l'acqua della diga, vediamo che c'è un grosso muro, alto circa 40 metri, quindi stiamo parlando veramente di un grande muro, che però non è costruito così, con una forma rettangolare. Troviamo dei veri e propri gradini. Questi gradini sono stati costruiti dai romani perché in questo modo si può distribuire la pressione dell'acqua in una maniera voluta, calcolata. E quindi questi gradini permettono mano a mano di fare in modo che la pressione dell'acqua raggiunga dei punti calcolati per poi contenerla adeguatamente. Oltre a questo primo muro a gradini, vediamo che c'è poi il corpo centrale della diga, che è fatto da una serie di alti muri. Questo in particolare è realizzato con quello che si chiama opus incertum, cioè si tratta di alcuni blocchi di pietre di forma irregolare che vengono ammassati e che vengono uniti da una malta. E il fatto incertum è proprio perché la dimensione, la grandezza, la forma delle pietre è irregolare, imprevedibile, si chiama opus incertum. E questa è un'ulteriore sezione e lato del muro di contenimento. Dopodiché, immediatamente sulla destra, c'è un altro muro che invece è realizzato in opus cementicium. Questo cosa significa? È il classico cemento, il calcestruzzo romano famoso ormai nei secoli. C'è una combinazione, un cemento realizzato con acqua calce pozzolana, che è una materia di origine vulcanica. Questo è il famoso calcestruzzo che abbiamo scoperto recentemente, che più viene bagnato e più si rinforza nel corso del tempo. E questo costituisce una seconda fettina, chiamiamola così, del muro che sorregge poi il corpo centrale della diga. Qua, invece, a destra, abbiamo un'altra parte del muro, e stavolta ci troviamo di fronte all'opus vittatum. Questo cosa significa vittatum? Significa grossi blocchi di pietra, questa volta squadrati, quindi dalla forma regolare, e posizionate in file. E quindi, a questo punto, si tratta di un muro molto più regolare, anche esteticamente più bello. Come vedete, quindi, ci sono diverse tipologie di costruzione, l'una dopo l'altra. Dopo questo primo elemento, probabilmente faceva parte della diga originaria, c'è tutta un'altra parte, un'altra grossa porzione di muro posizionato in verticale, di nuovo realizzato in opus vittatum, e quindi quei blocchi di pietra regolari tenuti insieme in file precise. Questo è il grosso, la parte centrale della diga. A questo punto, a valle, e quindi verso la città, c'è invece un altro muro rinforzato con dei gradoni. Come vedete, c'è una sorta, come possiamo dire, di regolarità. Di qui abbiamo dei gradini che tendono a rientrare per distribuire il peso dell'acqua. Di qua abbiamo dei gradini che tendono invece ad uscire per controbilanciare il peso dell'acqua negli stessi punti. E qua vediamo anche delle immagini, no? Qua c'è questa foto che ci fa vedere esattamente questa parte di muro con il rinforzo a gradoni. C'è anche un altro elemento. Sulla base di questa diga c'è anche una galleria costituita da archi a volta che permetteva di attraversare, letteralmente camminando in basso, tutta quanta la diga. Nel corso dei decenni precedenti si è fatto qualche lavoro per cercare di liberare questa galleria, ma siccome iniziava a cedere i lavori si sono fermati e non si può liberare come era ai tempi dell'impero romano. Questa parte invece sulla sinistra è il canale di scarico ed è esattamente da qui che esce l'acqua. Quindi l'acqua del fiume che viene deviata, convogliata e raccolta dalla diga, a un certo punto esce da questo canale di scarico posizionato sulla sinistra che è esattamente quello che vediamo in questo video e che ha salvato dalla distruzione certa la città spagnola. Quindi nonostante la tragedia delle alluvioni in Spagna, ovviamente tutti i danni enormi alle persone e alle cose che sta facendo, però in questa tragedia siamo perlomeno sollevati che questa città sia stata ancora salvata da una costruzione addirittura risalente all'impero romano e quindi i romani anche in questo caso ci hanno dato una mano in una situazione difficile. Speriamo di avervi spiegato bene la natura della costruzione di questa grande notizia che sta diventando virale, un augurio ai cittadini spagnoli che stanno subendo veramente una grave devastazione naturale e alla prossima notizia archeologica.